Tattoo è più di una struttura, è un simbolo di progresso, è una testimonianza di progettazione responsabile, è un segno di come architettura e natura possano coesistere in maniera armoniosa. In un mondo che dà sempre più valore alla sostenibilità, Tattoo è un esempio di come il design possa essere elegante e al tempo stesso anche attento all'ambiente. Grazie a tutti!